Buongiorno, benvenuti alla settima puntata di udinesismi, ospite di questa puntata il neo allenatore del Sevegliano Maurizio Trombetta, ex allenatore in seconda anche dell'Udinese, personaggio molto conosciuto e molto apprezzato, specialmente anche dagli utenti di Udinese Blog che hanno avuto l'onore e il modo di conoscerlo attraverso i suoi approfondimenti sulle partite. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Bene, il tema della settimana è un tema molto sentito, molto caldo, specialmente con un Udinese che sta volando. Riuscirà l'Udinese, è capace l'Udinese di pensare di poter vincere qualcosa? Subito quindi una domanda bruciapelo a Maurizio Trombetta, esperienza anche dell'anno scorso, è cambiato tanto, è pronta l'Udinese a vincere? Ma vedo, devo analizzare come ho fatto in queste ultime settimane la partita, i segnali sono assolutamente positivi nel senso che vedo una squadra che sta dimostrando di crescere partita dopo partita con una maturità notevole, i giocatori lo sapevamo ci sono, la qualità c'è, la continuità di rendimento e la maturità con cui vengono affrontate tutte quante le partite sicuramente sono dei segnali importanti per cui la disposizione, la predisposizione al raggiungimento di obiettivi importanti c'è. Riuscirci non è naturalmente semplice però quando per lungo tempo e con avvicendamenti anche di giocatori perché alla fine c'è sempre uno che esce, uno che entra, il gruppo base è solido, c'è ma c'è la possibilità di cambiare, Asamoah, Floro Flores, Lukovic che non ha giocato all'inizio adesso in pianta stabile, insomma la disponibilità e la disposizione per fare delle cose importanti direi che c'è. C'è anche un tecnico che sta facendo veramente bene. Visto da tecnico, secondo te il compito principale che un allenatore nel calcio moderno ha, anche secondo la tua esperienza, quello che adesso stai portando al sevigliano, ricordiamo tra l'altro che ha fatto il mister quattro punti in due partite dal suo arrivo la scorsa settimana, l'ultima ha vinto 4 a 0, quindi complimenti. tornando a noi, un allenatore deve essere più bravo a gestire psicologicamente il gruppo o tatticamente? Quale delle due componenti ha prevalenza sull'altra? Entrambe sono importanti chiaramente. Naturalmente sì, non c'è una prevalente sull'altra. Quello che posso dire io per la mia esperienza di questi ultimi anni, che ho fatto sempre solo come secondo e adesso sto affrontando invece come responsabile, dico che ha sempre maggiore l'aspetto della gestione del gruppo. Non è logico che ci sono le conoscenze tattiche, che c'è l'aspetto tecnico, c'è l'aspetto proprio delle decisioni tattiche da prendere e in questo caso se mi ricollego al caso dell'Udinese, che è proprio l'ampante dell'importanza dell'aspetto tattico, perché diciamo che assolutamente dopo il cambio di modulo c'è stata questa continuità di rendimento, questa crescita del gruppo, crescita della maturità della squadra. Però è anche vero che ormai l'aspetto sempre più importante è quello della gestione, soprattutto con le rose ampie, soprattutto con il mercato aperto, soprattutto con la forza leggermente minore dell'allenatore in un gruppo, perché non è quasi uno del gruppo, ma poco ci manca da un punto di vista proprio di forza contrattuale, economica, eccetera. Questo fa in modo che l'aspetto della gestione del gruppo, della capacità di riuscire a indirizzare secondo quelle che sono naturalmente le linee guida societarie, è fondamentale, sta diventando sempre più fondamentale. Difficile anche gestire quando ci sono professionisti di certi livelli, parliamo di tutte le squadre chiaramente, gestiti anche da procuratori e quindi non c'è più il rapporto come poteva essere vent'anni fa allenatore, giocatore, lo stimolo, la ripresa magari, la tirata d'orecchia. Adesso ogni parola deve essere soppesata anche in funzione all'avvocato che ci sta dietro. Non è proprio così, però comunque non è più il calcio, è logico, ci sono delle figure intorno al giocatore che una volta non c'erano, era più un rapporto diretto, soprattutto era più un rapporto diretto, c'era società, allenatore e squadra. Adesso naturalmente ci sono anche delle altre componenti che vanno tenute in considerazione, ma poi alla fine è sempre la capacità dell'allenatore di essere leader in un gruppo e indirizzare quindi quelli che sono gli aspetti tattici, oltre che psicologici. Praticamente questa Udinese ti piace con il 3-4-3? Non è un modulo che a me personalmente piace, però devo dire la verità sta avendo ottimi risultati e lo stanno applicando sia i ragazzi che naturalmente l'allenatore, perché poi è lui che dà i dettami in maniera meravigliosa, nel senso che analizzando proprio le ultime partite l'abbiamo visto lo stesso modulo contro tutti i tipi di moduli, a 4, a 5, a 3, a 2, insomma contro tutte le disposizioni tattiche avversarie ed è sempre riuscito l'allenatore e i giocatori in campo poi di conseguenza, a trovare le soluzioni per sfruttarlo al meglio, nel senso che ottima, per esempio parlo dell'ultimo esempio, la partita di Firenze, lì veramente sono state adottate secondo me delle soluzioni ottimali per riuscire a raggiungere un risultato assolutamente non facile.